buongiorno a tutti oggi giovedì 9 novembre buongiorno a tutti oggi belle notizie e notizie particolari diciamo così belle notizie e notizie particolari e anche ovviamente brutte notizie le prime pagine dei quotidiani si arricchiscono di si tingono di si tingono di 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 belle notizie perché perché la commissione sul covid ha ricevuto l'ok del senato finalmente ufficiale adesso attendiamo la camera prima di gioire ma ovviamente a il governo di centrodestra ha mantenuto le promesse portando avanti questa commissione d'inchiesta contrari chi conte speranza ipd in movimento 5 stelle ovviamente le virostar del caso che non se la ridono molto ho messo Bassetti sorridente ma secondo me avrà da grattarsi in testa diciamo che senza il cappello si gratterà con poca fatica ciao eleonora ciao emilia buongiorno buongiorno intanto il papa il papa che fa i cornoni il papa così papa papa tra virgolette il papa e ha deciso di sventrare completamente la chiesa cattolica di buttare la bibbia nel cestino e riscriverla a suo modo aprendo le porte ognuno è libero di fare quello che vuole aprendo le porte delle paradiso del paradiso a chi ha trans e tutto il mondo lgbt che sarà felice di questa scelta quindi papa francesco papa francesco e chiaramente in questo momento contestato da una gran parte dei cattolici in italia e attendo attendo voi buongiorno speriamo di tanto buone nuove ciao a tutti ciao eli ciao elena e alessandra non c'è più religione dice ciao ferruccio buongiorno speriamo di tanto buone e abbiamo simone di giovani buongiorno mi sentito un po raffreddato perché un po di influenza devo essere onesto un po di influenza mi sto curando con nurfen e brufen e quelle cose che non ci potevano usare durante il pandemonio noi dovremmo spiegarci anche questa tutte le virostari medici il signor speranza dovranno spiegarci un po tutto i divorziati gli fanno schifo è vero sì assolutamente divorziati fanno schifo a papa francesco un papa che fa i cornoni e stendiamo un velo pietoso su questo anti lo chiamo anti papa scusate non sono cattivo io sono cristianissimo attenzione proprio per questo ritengo che la bibbia vada osservata e quando vedo un papa che bevi la grappa col miele bravo grappa col miele all'italiana fatta che il papacocchio sta demolendo la chiesa cattolica e sì assolutamente sì emilia buongiorno emilia ti do ragione hai ragione hai scritto anti eh ti do ragione mi sa di sì ogni dubbio è lecito anche in questo caso non rimberga 2 arriverà arriverà siamo pronti andiamo a vedere le prime pagine amici vedo pochi collegati algoritmo non rompre scatole condividi perché è importante oggi per noi è una giornata importante quindi condividete perché parte se tutto va bene parte la commissione di inchiesta lì si fa un paiolo così a tutti quelli che ci hanno preso per il culo durante il pandemonio generale anche il papa vorrei ricordarlo non si poteva entrare in chiesa vi ricordate non ha difeso neanche in quel caso la nostra religione signor papa quindi sono tutti coinvolti quelli qua dietro tutti tutti una bella famigliola e siamo pronti siete collegati grande della puglia alessandra ciao buongiorno buongiorno davide paschetta non lo vedo ancora collegato e calo che le mente neanche mi mancano i miei inviati meteo volevo sapere la situazione meteo in giro per l'italia quindi devo per forza attendere loro perché non è il papa dice carla atto d'amore dice miglia e varisti atto d'amore buongiorno robbi da udine sergio da udine ciao sergio buongiorno ok ci siamo andiamo a vedere le pagine dei giornali guardiamo la verità alle mie spalle che io adesso mi defilo verga e guardate guardate che dice intanto questo è un argomento pesantissimo perché è eugenetica si sopprime una bimba che piange sorride sgambetta vergogna inglese indi deve morire e malgrado la concessione della nostra cittadinanza la disponibilità del bambino Gesù all'intervento di un giudice italiano e l'alta corte britannica ordina che venga staccata la spina la piccola malata calpestata volontà dei genitori e umana pietà e guardatemi negli occhi guardatemi negli occhi inglesi inglesi io e parenti inglesi ma non vi vergognate un pochino di quello che state facendo c'è eutanasia contro la volontà dei genitori questo è il regno unito in inghilterra ragazzi ma cosa state fatte cosa state facendo cosa state facendo siamo disponibili a curare a noi la bambini in italia a nostre spese non preoccupatevi inglesi datecela noi ci pensiamo noi ma non potete staccare la spina una bimba contro la volontà dei genitori cosa cazzo state facendo grida vendetta questa cosa cosa state facendo triste argomento ragazzi ho visto la bimba le foto triste argomento centro pagina che abbiamo crisanti invece il signor crisanti indagare a fondo sul covid ma il suo pd non vuole non le vuole sapere provate a dire rispondete voi perché crisanti non vuol sapere della commissione di inchiesta secondo voi ditemelo voi perché il pd e i cinque stelle non vogliono la commissione di inchiesta piccolini piccolini poverini poverini perché non la vogliono ditemelo voi perché conte speranza crisanti i pd non vogliono la commissione di inchiesta perché fatevi delle domande datevi delle risposte ogni dubbio è lecito wow di dubbi non ce ne sono non la vogliono perché hanno paura non la vogliono perché gli brucia come detto bravo ma flavio numero uno emilia emilia ha detto gli brucia il culetto esattamente hanno mangiato troppo peperoncino e jenny jaggi mio camionista con il nome da donna ovvio ovvio dice ovvio il terzo perdono ragazzi tutto vero tutto vero attenzione andiamo a vedere però cosa continuano a dire i giornali via i robbi giusti caviti dalle scatole robbi giusti e rompi chi è venne l'unione europea ci costerà altri 186 miliardi ma scusate ma perché ma ditemi perché ditemi perché devo fare entrare zeleschi in comunità europea io non lo voglio non lo voglio non voglio cioè perché devo fate votare e cari parlamentari europei chi è nell'unione europea giusto sbagliato non dovete dirlo voi dovete far votare e guardarci negli occhi noi europei e vedremo cosa voterà la gente perché dobbiamo spendere altri 186 miliardi di euro che non arriviamo a fine mese e abbiamo metà dell'italia che non paga le tasse perché non ce la fa e spendere 186 miliardi per fare entrare kiev nell'unione europea perché il conto ucraino continua a salire vertiginosamente per i paesi europei che già si sono svenati per dare armi in una guerra già persa già persa e fronteggiare i danni provocati dalle sanzioni alla russia che dovevano danneggiare la russia hanno danneggiato solo noi ci siamo auto inculati scusate il termine autocastrati mi è scappato un francesismo sbagliato perdonatemi quindi rendetevene conto intanto abbiamo sotto abbiamo invece UK Canada Svezia fuga dal green ma dai ma veramente retromarcia sulle follie socialiste ma dai si stanno svegliando tutti i paesi del mondo poverini il Canada la Svezia la Svezia la Canada con imballaggi pure le coppe adesso si stanno sbagliando che sono tutte caccate vi siete sveglia bravi siete veramente i migliori dei geni dei geni si sono svegliati ogni tanto si svegliano anche gli ultimi degli ultimi in classe gli ultimi della classe si svegliano vabbè qua abbiamo intanto i dei dentro la guerra ragazza nel sangue incende l'islam usa più deboli la unione europea si smarchi gli stati uniti sono messi da panico ragazzi qua un disastro generale disastro generale cambiamo quotidiano perdonatemi se dico la verità e le cose come stanno poi abbiamo Grillo la ragazza in aula parla di un altro in udienza una chat in cui lei cita politici e audi in cui racconta i suoi amori per Ciro Grillo si mette male eh per Ciro Grillo si mette male non ne parlavamo più per Ciro Grillo si mette male ma cosa ha fatto Ciro Grillo ah per quella violenza sessuale di gruppo presunta presunta del figlio di Grillo vabbè andrà avanti le indagini intanto non sapremo niente sappiatelo che verrà nascosto e qua abbiamo una notizia del giorno guardate che bella notizia del giorno ci siamo questo è veramente bello questa è una bella notizia mi fa piacere mi fa piacere io che credo tantissimo proprio nella Bibbia nella Bibbia ecco questa qua bellì battesimo ai figli nati da utero in affitto giusto bravo Papa Francesco Bergoglio i trans possono essere madrine e testimoni di nozze addirittura madrine e padrini avete capito questo Papa Bergoglio bravo bravo Papa Bergoglio bravo eh Cristo è di qua tu sei dall'altra parte allora Cristo è qui qui e tu sei qui tu sei qui ragazzi quanto mi manca Ratzinger quanto mi manca Ratzinger quanto mi manca vi faccio vedere chi era il vero Papa vi faccio vedere un vero Papa guardate 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 ho il quadro in casa guardate questo per me era un nonno nonno guardate facciamo un applauso fate un applauso è lì che è lì che sta guardando dall'alto dei cieli quello che sta facendo Papa Papa io non lo chiamerei Papa Francesco questo era un vero Papa questo era un vero Papa Bergoglio non mi piace onestamente scusate ci saranno i cattolici dicono obbi giusti cosa dici questo questo era questo era un grande Papa questo è un grande Papa guardate guardate potrei stare tutto il giorno così fa una diretta tenendo questo quadro in mano tutto il giorno anzi me lo tengo con me me lo tengo con me questo era un vero Papa guardiamo altre notizie prendiamo avanti quindi avete visto la notizia perché ha aperto la chiesa tutti c'è e nella Bibbia c'è scritto cosa di cose completamente differenti ma lui ha deciso di aprire la chiesa a tutti questo è il Papa attuale andiamo a vedere cosa dice invece il cambiamo pagina no andiamo a vedere cosa dice la stampa la stampa andiamo della stampa amici eccoci qua alle mie spalle c'è la stampa mi defino un attimo eccoci qua la stampa ha mass assediata tratta sugli ostaggi sarebbe anche ora i miliziani asseragliati nei tunnel e negli ospedali netanyahu hanno preso in nord e della striscia e qua continua purtroppo ed è veramente c'è l'esodo ci sono le macerie veramente un disastro intanto l'albania invece divide i sovranisti tensioni tra meloni e lega secondo me secondo me queste tensioni qua sono molto scritte dai giornali e poco reali e con tutto rispetto parlano di tensioni della lega ma io di tensioni della lega e di fratelli d'italia sentendo dentro conoscendo direttamente dei parlamentari non ce ne sono quindi sono tutte cose per montare una zizzagna che non c'è non c'è nessuna tensione nel centro destra zero zero quindi con tutto rispetto poi dopo ricordatevi il vero Papa vero uno dei uno dei veri papi questo 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 tutto rispetto via andiamo a vedere cosa dice invece e l'allarme di draghi pronti l'ex premier più integrazione e l'unione europea non sopravviverà attenzione più integrazione giustamente dobbiamo integrare sta arrivando la recessione perché l'italia conviene vecchio pato di stabilità la recessione si sta facendo in Europa per contratti ma non era non eravamo l'Europa dei genialoidi facciamo le sanzioni così pieghiamo la russia facciamo le sanzioni così pieghiamo la russia diventiamo tutti più ricchi più forti facciamo guerra di qua guerra di larme a tutti ragazzi stanno distruggendo l'europa e stanno distruggendo anche la nostra religione chiedetelo a lui chiedetelo a lui pregatelo pregato chiedetelo a lui lui lo sa lui è vicino a gesù lui lo sa quello che sta facendo l'attuale chiesa signori l'attuale chiesa buongiorno chi è che mi ha scritto questo quale sionisti si vogliono portare uno di loro e lo sassionisti sionisti vabbè torniamo torniamo le pagine di giornale cambiamo giornale ragazzi questa mattina sono clamorosi eh abbiamo libero libero abbiamo la cgl la cgl la conoscete la cgl era una volta un sindacato molti secoli fa era un sindacato cosa dice landini la cgl fa 58 shopperi tutti vicini al weekend chissà perché vicino al weekend un fenomeno landini criticava la manovra prima ancora di vederla ora parte la contestazione per stare amici con tutto rispetto volete la mia landini landini si può dimette landini perché durante il pandemonio generale con la gente sospesa senza motivo e adesso parte la commissione di chiesta si farà il culo a tutti pure i sindacati che non hanno fatto niente voi prendete dallo stipendio una percentuale e non tutelate i lavoratori questa è la dura realtà questa è la pura e dura realtà e chi dice contrario è solo un grande bugiardo perché durante il pandemonio i sindacati hanno erano è come una barzelletta fa ridere flavio paride angiulli malevato le parole di bocca bravissimo bravissimo guardate qua questo questo è questo è un papa questo è un papa non dico altro non dico altro andiamo a vedere invece cosa dicono altri giornali centro pagina abbiamo grillo torna in tv e vada fazio ecco le dieci domande da fagli ma grillo ma per favore io farei una domanda io al grillo farei una domanda come sta tuo figlio ok torniamo questa è che questa è che questa era molto cattiva lasciamo stare i figli poi indigniamoci abbiamo il tempo indigniamoci cosa dice l'alta corte di londra ordine di taccare la spina ed ho ragione per indi gregoli do ragione assolutamente al tempo perché è triste la faccenda del bambino che vogliono far fuori vabbè e vogliono staccargli la spina quando i genitori non sono d'accordo siamo disposti a curare in italia che ce lo facciano curare in italia il tempo di osce rutelli organizza una rimpatriata per i trentenni trent anni della sua elezione fa bene fa bene sarà ancora bello come una volta e era bello rotelli e poi andiamo a vedere cosa dice il fatto quotidiano fatto quotidiano con chi se la prende oggi se la prende con chi con bibi assediato l'intero occidente pausa umanitaria per scambiare gli ostaggi usa unione europea g7 a israele tregua gaza lo l'onu mai tanti bimbi morti in guerra vediamo si dice qualcosa il della commissione d'inchiesta fatto quotidiano ovviamente no allora io mi chiedo questo perché il fatto quotidiano non dice niente della commissione d'inchiesta neanche del papa ogni dubbio è lecito è vero è vero giovanni paolo è vero che dice salutatelo scrivete giovanni paolo è uno dei migliori sono dei migliori allora andiamo a vedere qua andiamo giù a vedere il e cambiamo quotidiano non dice niente chiaramente della commissione d'inchiesta vediamo repubblica cosa dice il governo dei dietro front finanziaria tormentata fmi una legge di bilancio senza crescita e al centro pagina abbiamo la guerra di amasse israele e opzione tregua umanitaria per il rilascio di alcuni ostaggi e battesimi a cioè con ne parla anche battesimi e padrini si del vaticano per trans e gay per transe gay giovanni paolo giovanni giova giovanni hai visto cosa ha fatto il papa nuovo papa francescolo papa francescolo il tuo è uno dei tuoi eredi no ha praticamente deciso di aprire le porte del vaticano a tutti far affare da padrini anche i trans e i bambini nati da l'utero in affitto quindi chimicamente la cosa strana e tutto vernanno tu eri troppo indietro non ti puoi ricordare verranno addirittura battezzati tutto giusto sei d'accordo no vabbè non è d'accordo e andiamo a vedere chi c'è invece vediamo l'ultimo quotidiano va correre della sera correre della sera fa vedere le fa vedere purtroppo questa questa fuga questa fuga veramente triste palestinesi in fuga dalla striscia di gaza poveri bimbi tutte donne bimbi veramente triste poi riforma sale la tensione premierato in via senato si parlerà di premierato e questa cosa da fastidio mattarella cosa dirà mattarella presidente mattarella comandi mattarella presidente cosa ne pensa del premierato dopo non posso più decidere nulla io non posso più di scegliere il governo che mi parli questo è il dubbio che a mattarella perché la verità qual è che in caso di premierato i pochi poteri che al presidente della repubblica verranno praticamente fregati dal nuovo premier quindi c'è ci sarà molta discussione in questa cosa del premierato vabbè detto questo abbiamo visto le pagine e torno con il la copertina principale gli argomenti del giorno sono questi guerra che continua premierato che al voto commissione d'inchiesta ok del senato il papa che ha deciso il papa questo questo papa francesco papa chiamiamolo chiamiamolo papa perché fino a prova contraria dovrebbe essere il papa è praticamente ha deciso di smontare completamente la b prendere la bibbia e cestinarla e decidere lui per la regione di come deve essere e io a questo punto gli rispondo così gli rispondo così davanti a lui lo metto anzi lo metto di fianco francesco francesco questo per me era un papa detto anche ratzinger detto questo vi saluto ciao a tutti buona giornata credenti e non credenti vaccinati non vaccinati potrei dire altri di esempi ma sto zitto la commissione d'inchiesta il pd non la vuole neanche 5 stelle perché perché ciao a tutti